L'Aquila va, vince a Pagani e tutto sommato qualche altra squadra su qualche altro campo gli dà anche una mano. I Rossoblu dovevano vincere dopo il turno di riposo, lo hanno fatto senza troppi patemi. Pagliari sceglie un tridente esplosivo, Libertazzi, De Sousa e Frediani, ma è l'approccio ad essere positivo. Proprio Libertazzi in apertura sollecita Volturo in stile Garella, parata coi piedi, non sarà l'unica della sua partita, ma è comunque l'anticamera del vantaggio lampo dei Rossoblu. All'undicesimo, infatti, la stoccata mancina di Marco Frediani si incastona come un diamante alle spalle del portiere paganese e di fatto consegna, con 80 minuti di anticipo, la vittoria all'Aquila, perché i Campani sono praticamente assenti, vittime di una sterilità offensiva palesata nel piazzato ben calciato da Deli, ma su cui Velardi non arriva la correzione. Sarà l'unico spunto della prima frazione. Poi il monologo è tutto aquilano. La testa di Libertazzi, liberato dallo schema Corapi-Maltese, non trova di poco la porta, mentre Volturo è costretto agli straordinari e al colpo di Reni per disinnescare la diagonale di Claudio De Sosa, che sembra destinato in fondo al sacco. L'assedio continua, sempre Volturo, con un ottimo riflesso su Maltese, prima del tappin vincente sì, ma in fuorigioco di Dallamano, gol dunque annullato. Francesco Corapi è ispirato, De Sosa manda a spasso con una finta Panariello, ma il 2-0 non vuole proprio arrivare. La ripresa è di pura marca rosso-blu, questo perché i cartellini rossi per la Paganese fioccano, quello per Deli, ad esempio per il fallo da Tergo su Corapi, sarà il primo di una lunga serie, perché Velardi lo becca qualche istante dopo per proteste e la gara praticamente va in archivio. Nell'Aquila spazio per Agnello, che dalla distanza prova a centrare il supergoal della domenica senza fortuna, e poi minuti anche per Amato Ciciretti, in luogo proprio di Frediani. Ciciretti che sfrutta un piazzato sballato di Ceccarelli e con lo stesso Agnello, che si vede fermare la conclusione debole proprio da Ceccarelli in recupero difensivo. Ma la gara ha sempre meno da dire, la spaccata di Del Pinto è fuori, prima del rosso anche per Marco Perrotta, doppio giallo, e per il tecnico Belotti. Finisce 0-1 e l'Aquila continua la marcia da zona playoff, riprende il discorso lasciato 14 giorni fa contro il Barletta, in attesa del big match di domenica al Fattori contro il Perugia.